Fano. Serve una politica di qualità, fatta da gente di qualità, basta ai politici improvvisati dell'ultima ora. Era chiuso in queste parole pronunciate durante la conferenza stampa dal commissario provinciale della Lega Nord, Lodovico Doglioni, il senso della presentazione della nuova figura di coordinatore per Fano della Lega. Ancora più incisive poi le considerazioni del segretario regionale Paolini, per cui Fano diventerà il grimaldello con cui scardinare il PD. Noi vogliamo che Fano torni ad occupare il ruolo che ha nella storia e nell'economia marchigiana. È la terza società delle marche, non può morire, come dice il nome dell'associazione che abbiamo fondato due anni fa. Massimo Mei, fra i fondatori un anno fa del movimento Fano non deve morire, è il nuovo coordinatore per Fano. Quattro anni in Lega e due da socio e militante. Un background professionale basato tutto sulla qualità. Mei è un pasticcere affermato della città che porta in dote proprio la ricerca di una politica di qualità per una città che deve necessariamente affrancarsi da tanti errori commessi in passato e dal duopolio Ricci-Ceriscioli. Fano in questo momento ha delle difficoltà. Noi alcuni anni fa abbiamo proposto Fano non deve morire facendo la lista di tutte le cose che fanno perso negli ultimi anni. 20 anni, guarda caso, sta venendo fuori un po' tutto. Mentre prima era in sordina, oggi sta venendo fuori in maniera abbastanza evidente quello che fanno perso per inettitudine, per incapacità, per tanti motivi. Noi vogliamo risolvere la città, quindi cercare senza nessuna pretesa, con molta semplicità, però cercheremo di scegliere quello che la città potrà fare, che ha grosse potenzialità secondo noi. Grazie. 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 Grazie.